Riaprono finalmente i cancelli del Parco degli Angeli dopo la messa in sicurezza con la putatura degli alberi e la pulizia grazie alla collaborazione del Verde Pubblico, Sea Risorse e il motogruppo Tartarughe Lente. Il parco ricordiamo che era stato realizzato in via Porta a Pietrasanta in memoria delle 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno del 2009 di Viareggio e si trova vicino alla Casina dei Ricordi. Fino ad oggi è stato frequentato da molti bambini non solo del quartiere ma nel periodo d'estivo anche da turisti che sono in villeggiatura nella nostra città. Tutti auspicavano che i cancelli si potessero riaprire quanto prima dopo che erano stati chiusi in quanto era caduto uno ramo di una delle piante che si trovano all'interno del parco ma c'era bisogno di una putatura che finalmente è avvenuta e così adesso per la gioia dei bambini, dei loro genitori e anche dei nonni potrà essere utilizzato anche con i giochi che si trovano all'interno. Insomma mi appella ai genitori, questi bambini guardateli, non si può una pavimentazione di un parco e questo è già successo anche qualche anno fa perché in fondo qua giù è tutto smontato e non si può lasciare che smontino una pavimentazione e poi tutti i batoncini sono spazi per il parco io ieri per pulire col trattolini l'ho dovuto scansare e raccattarli. Questo è vergognoso da parte dei genitori, dovete tenerlo bene perché questo è un parco importante. Le sollecitazioni da parte di diverse persone per far riaprire le porte finalmente sono state ascoltate e così adesso la situazione è tornata alla normalità.